Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi porto il secondo match alla meglio delle tre contro Daniele Il Passa che ho affrontato al regionale di Roma del 7 maggio al primo turno di Svizzera. Come forse avrete visto nel primo video, nel primo match ho avuto la meglio contro Passa grazie ad una gestione della Trick Room e della Gravity e anche grazie al singolo turno di sonno del mio Kyogre contro il suo Groudon a più due, ma il mio avversario è tutt'altro che sconfitto. Facciamo iniziare la battaglia. Ecco qui che lui schiera di nuovo i suoi Manectric e Bronzong, quindi non ha cambiato lead assolutamente contro di me, che invece ho cambiato lead. Ho messo Groudon e Salamence. Qui probabilmente ho cercato il gioco un po' difficile. Infatti ho lasciato Groudon in campo credendo che lui con Bronzong restasse e settasse la Gravity oppure settasse la Trick Room. Purtroppo per me ha fatto la giocata più ovvia, più banale forse da prevedere. Ha messo Kyogre in campo e quindi ha sparato sicuramente, sicuro come la morte, una introforza acqua contro il mio Groudon. Qui un po' mi disperavo perché comunque perdere Groudon al primo turno significa anche perdere la battaglia al primo turno. Eh già, e come vedremo, io avevo usato Fire Punch quindi comunque non sarebbe cambiato assolutamente niente. Adesso che finisce anche Salamence di Mega Evolvere, qui il turno è iniziato dopo tre minuti probabilmente dall'inizio della battaglia. Comunque, sì, ecco se il mio Groudon si è appena beccato in introforza acqua sui denti chiaramente viene ammazzato in un colpo da Manectric. Qui avevo usato anche Sdoppiatore per evitare che il Bronzong non crepasse da Fire Punch, ma ovviamente anche Kyogre ha subito un danno abbastanza irrisorio. Rientra, anzi no, entra Groudon, mentre Manectric anche fa una mossa diciamo abbastanza scontata, contro il mio Salamence, infatti vedremmo che fa Volt Switch. Fa Volt Switch e chiaramente mi becco il danno, anzi no, non su Salamence, lo fa su Tandorus e mi fa anche un critico, ma il critico in questo turno è del tutto superfluo, se vogliamo, sì, superfluo. Perché chiaramente già ho perso. Qui riesco, cioè comunque ero riuscito a capire che avrebbe switchato Manectric e faccio Fulmine. Qui poi adesso provo ad ammazzare questo Bronzong per levarmelo dalle scatole. Ci riesco, ma è del tutto irrisoria la situazione, perché anche senza la Trick Room il mio avversario adesso ha vita facile. Infatti si busta con Danza Spada e adesso che ha più due può fare quello che vuole, può fare esattamente quello che vuole. Qui già sapevo di aver perso, però avrei potuto fare una mossa ben precisa. Avrei potuto switchare il mio Salamence su Kyogre, anche perché adesso è a meno due, sia in attacco speciale che in attacco. Però preferisco andare con Dragobolide su Grodon, per due motivi. Sia perché con un critico potevo ammazzarlo, sia anche per evitare di dire troppo sulle mosse del mio Tandrus, oppure comunque anche a livello di calcolo dei danni, come nella prima partita, calcolo dei danni del suo tuono sul mio Kyogre. Quindi preferisco che finisca così. Qui mi becco anche un Wall Switch che ammazza definitivamente il mio Tandrus. Mi fa un altro critico, è il terzo, ma si sprecano in questa partita. Cioè, se anche non ne avesse fatto nessuno sarebbe stato lo stesso. E quindi mi finisce col suo Grodon. Sì, gli faccio scaldo, vinco l'aspettare, ma non serve a niente. E lui mi finisce col suo Grodon, con le spade. E niente, la seconda se la giudica Daniela e quindi adesso siamo uno a uno. La terza sfida sarà quella decisiva. E arrivederci ad un prossimo video. Ciao!